una nocciolina può essere lavorata anche a rovescio e anche le cinque maglie si possono fare da una con un metodo diverso e cioè lavorando la stessa maglia una volta presa da davanti che una volta da dietro davanti e dietro e finiamo con la lavorazione davanti a maglia rasata rovescia preferisco lavorare la nocciolina voltando il lavoro quindi voltiamo il lavoro e lavoriamo il primo ferro tutto a diritto giriamo ancora lavoriamo tutto a rovescio il terzo ferro tutto a diritto voltiamo ancora il quarto tutto a rovescio e l'ultimo tutto a diritto da cosa dipende la scelta dai nostri gusti e dalla maglia dentro la quale vogliamo piazzare la nocciolina ora creato il corpo della nocciolina come altro lo possiamo chiudere per esempio lavorando 5 insieme a rovescio questo metodo si addice alla nocciolina fatta maglia rasata rovescia ma anche a quella fatta a maglia rasata diritta perché come in una nocciolina maglia rasata rovescia così anche in quella maglia rasata diritta produce uno stacco netto come se la tagliasse ora 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 ora